In meno di 24 ore dall'accordo al primo allenamento, storia di Beppe Iachini a Bari, nella notte tra lunedì e martedì, l'allenatore di Ascoli Piceno e il club della famiglia De Laurenti si hanno trovato l'accordo per avviare un percorso comune, contratto di un anno e mezzo con una doppia chiave di lettura, consolidare la permanenza nella categoria in tempi brevi con una squadra a 27 punti nelle prime 23 partite, a più 5 sui play-out e meno 5 dai play-off e la visione di un campionato di vertice nella prossima stagione. In Puglia Iachini è arrivato accompagnato dal vice Simone Pavan, dal collaboratore tecnico Vincenzo Mirra e dal preparatore atletico Fabrizio Tafani, quest'ultimo prende il posto di Giorgio Durbano. Dal calcio verticale di Mignani a quello di impronta offensiva nelle idee di Marino si passa alla concretezza e al pragmatismo di Iachini che a Bari vivrà la 14esima tappa in 23 anni di carriera da allenatore con quattro promozioni dalla B alla A tra Chievo, Brescia, Sampdoria e Palermo, le ultime tre subentrando a stagione in corso ad arricchirne la bacheca. Nella mattinata di martedì è arrivato in Puglia per siglare l'accordo trovato al telefono nella notte con il DS Ciropolito. Nel pomeriggio ha diretto il primo allenamento con iconico cappellino con visiera, tuta e voglia di far sentire la voce. Allenamento sul prato del San Nicola con ingresso consentito solo agli operatori dell'informazione. Facciamo correre la palla e non più di due tocchi le richieste più frequenti per i giocatori. Rinviato ai prossimi giorni l'abbraccio con la piazza con circa 150 tifosi che hanno atteso in vano che la squadra si spostasse all'antistadio. L'appuntamento con l'esordio ufficiale è fissato sabato 10 febbraio quando al San Nicola arriverà il Lecco per la 24esima giornata di campionato. L'interrogativo riguarda il modulo. La carriera di Iachini racconta del concetto di versatilità al centro di tutto. Le caratteristiche prima dei numeri, la sua lezione. La difesa a tre è uno dei pochi dogmi sposati in passato ma ha testato anche il 4-4-2 e il 4-3-1-2. Tra le certezze attese di Cesare in difesa e Maiello a centrocampo in odor di convocazione già sabato. Davanti tanto ruote intorno a Menez tornato pienamente a disposizione dopo il cap o al crociato di agosto. Il 36enne francese potrebbe agire a supporto di due attaccanti o al fianco di Sibilli dietro un centroavanti. In caso di difesa a tre sarà necessario individuare il terzo centrale con di Cesare Vicari. Matino sarebbe in pol. Mentre ci sarebbe traffico in fascia per due posti. Dorval, Ricci e Ghiebre sono soluzioni più difensive. Callone e Schick sono più portati alla fase offensiva. In mezzo al campo chiede spazio Lulic arrivato a gennaio ma impiegato da Marino per quattro volte dalla panchina per 75 minuti complessivi. Al netto degli interpreti c'è un diktat ritrovare praticità, carattere e concretezza.